buonasera a tutti alimentatore Godzilla serie 150 Ampere 28.2 questo è un caso particolare 28.6 è stato richiesto dal cliente già riscaldato con le ventole attaccate infatti c'è un Ampere 1.2 di assorbimento proviamo con un 305 modificato da Vincenzo Radio America Caltanissette con i finali cambiati e tutto siamo spostati sul canale 44 per andare allo studio ancora l'alimentatore diciamo è da rifinire esternamente allora 28.6 positivo al capo positivo lo giro 60 Ampere quasi di picco attosione canale 45 visto non se ne carebbe niente 28.6 e 28.6 rimane giustamente se andiamo sul tester e ora non si vede ma te lo faccio vedere 28.6 giusto giustamente attaccato di tre lineare e sballa è normale questo non c'è bisogno ve lo dico io lineare sta riscaldando portante bianca attosione canale 45 sentite Salvatore io lo dottore sud Italia capo ben vedete non se ne scende di nulla questo è l'assorbimento l'amberaggio diciamo assorbimento l'amberaggio positivo cambio 305 non vado a nascondere 48 e questa è la bestia chiamato Godzilla complimenti all'ingegnere domani lo portiamo alla grafica facciamo fare qualche cosa esternamente questo il nuovo case diciamo è un case di computer e diciamo che il lavoro viene più pulito esteticamente è più bello ancora non è rifinito poi pubblicherò le foto con quando è completo positivo buonasera a tutti ragazzi buona visione buona quese greca buona domenica calvatore io lo dottore sud Italia provincia Catania vi saluta capo a capo buona sera a tutti ragazzi una buona visione buona sera a tutti ragazzi una buona visione buona visione buona visione buona chess